7 febbraio 1968 un gruppo di studenti del liceo virgilio di roma si riunisce per la prima volta nella chiesa nuova della capitale dall'incontro nasce la comunità oggi conosciuta come la comunità di sant'egidio un impegno costante che va dai dopo scuola per i bambini immigrati nelle baracche della periferia romana agli innumerevoli interventi in tutto il mondo alla ricerca della pace del dialogo e di soluzioni praticabili nei luoghi colpiti da crisi umanitarie la comunità di sant'egidio condivide in italia e in più di 70 paesi dei diversi continenti i fondamenti che caratterizzano il suo cammino la preghiera la comunicazione del vangelo la solidarietà con i poveri l'ecumenismo e il dialogo la comunità di sant'egidio è un'associazione pubblica di laici riconosciuta nel 1986 dalla santa sede grazie a tutti Grazie a tutti.